Allora, cucina di Serena e disegniamo via Modo. Allora, prima, adesso facciamo un po' di linea di ritorni. Abbiamo visto i miei piedi con un po' di loro tagliato. Le coroni, verdi e torce. Un po' di mole. Abbiamo visto i miei piedi con un po' di linea di ritorni. Abbiamo visto i miei piedi con un po' di carne. La cosa che facciamo è vedere. Questo è la carne, il cigiale. Abbiamo visto i miei piedi con un po' di carne. Abbiamo visto i miei piedi con un po' di carne. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con il garofono, mettiamo l'olio e devi rotolare bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.